Strumbo, quando ti ha chiamato il direttore per indossare la maglia della Gela Calcio, non ci ha pensato due volte perché si tratta di una piazza importante e di una maglia gloriosa? Sì, verso la fine di giugno ho ricevuto la chiamata dal direttore Martello che già conoscevo. Quando ho saputo che aveva firmato per il Gela Calcio, è vero, non ci ho pensato più di due volte. Avevo tante richieste quest'anno, però siccome sono uno che sono stato 12 anni qua in Sicilia, dopo 5 anni fa piacere ritornare, però fa piacere ritornare in una piazza di calcio. Se no, ti ripeto, avevo altre richieste. Per venire qua a Gela vuol dire che sono venuto qua non per salvarmi, ma per far bene. Fare le comparsi in Serie D non serve a nulla. Voi puntate a qualcosa di importante? Ma sì, io per questo, se ho spostato questo progetto è perché non sono venuto qua, ti ripeto, per salvarmi. Sono venuto in una piazza importante qua in Sicilia dove per 15 anni ha fatto la Serie C. Spero di far bene perché Gela come città merita da tanto. Stiamo facendo un bel gruppo e speriamo già di far bene dall'inizio. Ti hanno detto che nell'ultima partita del Gela col Cusso Palermo che poi ha decretato la promozione in Serie D allo Stato di Vincenzo Presti c'erano 5.000-6.000 persone. Che è il record per un campionato di eccellenza? Ma sì, ma si sa, le piazze calde di calcio sono belle soprattutto perché quando si gioca in casa ci saranno quelle 4-5.000 persone allo stadio. Quest'anno ho giocato nel Gelo Neac dove per dirti contro il Taranto c'erano 15.000 persone, Nardo Francavilla c'erano 9.000. Ho visto un paio di video su internet riguardo il Gela calcio e l'anno scorso sono pure arrivate nella vittoria del campionato a 4-5.000 persone. Questo ti fa capire che Gela è una città che merita tanto, la gente la domenica valla viene allo stadio e spero che ne viene ancora molti di più quest'anno.